ciao lettori elettrici di mamma style e benvenuti in un nuovo video tutti i giorni ci ritroviamo a fare i conti con la pulizia non solo del piano cottura ma anche dei bruciatori che fanno parte di essa a causa del residuo di cibo e di schizzi d'olio e questi dopo un po cominciano a presentare macchie davvero inguardabili noi di mamma style abbiamo pensato ad un rimedio con l'utilizzo di un prodotto che siamo soliti utilizzare quando abbiamo la lavastoviglie ebbene stiamo parlando della famosissima pastiglia della lavastoviglie vediamo insieme come fare tutto quello che dovremmo fare mettere in un contenitore dell'acqua calda e al suo interno aggiungiamo la pastiglia della lavastoviglie a questo punto aggiungiamo i bruciatori lasciamoli immersi in acqua per almeno 40 minuti a a a a E' un'altra parte. Una volta trascorso questo tempo procediamo recuperando i bruciatori. Con una spugnetta proviamo a rimuovere tutto lo sporco. Dopodiché risciacquiamo sotto acqua corrente fredda. Ora non ci resta che asciugare il tutto e poi riporli al proprio posto. Senza alcuno sforzo e senza alcuna fatica avremmo così risolto il nostro problema in un modo alternativo, semplice ed efficace. E' un'altra parte. www.mamasstyle.it